Perché Filippo Intesano, vostro amico di infanzia, aveva deciso di lasciare l'Italia per trasferirsi a Zanzibar? Filippo, nonostante avesse grandi capacità e doti umane, aveva difficoltà a realizzarsi. Aveva avuto varie esperienze come lavoratore subordinato, tra cui una che lo segnò perché ebbe anche un brutto infortunio mentre lavorava in una fabbrica. Poi provò a mettersi in proprio con un lavoro per il quale era sicuramente molto portato, cioè quello di tatuatore. Effettivamente ha sempre esibito un animo artistico, una capacità enorme di trasmettere emozioni e sentimenti attraverso le arti grafiche. Lo realizzava tantissimo lasciare queste sue impronte sulle persone. C'è anche un suo studio a Cividale, ma il sistema Italia per le piccole attività rende tutto molto difficile. Si sentiva, come dicevamo noi, un cricetto nella ruota che lavorava solo per mantenere un sistema in cui non credeva. Decise di provare un'esperienza all'estero, trovò una persona che aveva una struttura turistica in Tanzania e lo cercò e lo coinvolse, lo convince ad andare in Tanzania appunto a svolgere questa attività. La famiglia mercoledì scorso è partita per portare in patria le ceneri perché Filippo voleva essere cremato ma i costi sono molto elevati. Abbiamo saputo purtroppo che la spesa è effettivamente onerosa, si parla di alcune migliaia di euro ed è anche l'unico percorso percorribile per portare i resti di Filippo a casa in tempi brevi. Quindi appunto, oltre a questa tragedia che deve provocare un dolore inaudito, devono sobbarcarsi l'onere anche economico, oltre che morale e fisico di occuparsi della cremazione che è già avvenuta nella capitale e poi riportare i resti a Zanzibar e da lì rientrare in Italia. Nove giorni circa in tutto l'impegna, una spesa per una famiglia che non è mai stata ricca, sicuramente è importante. Quindi noi amici storici e anche più recenti, in una grandissima azione di solidarietà, stiamo raccogliendo dei fondi che daremo alla famiglia e non escludiamo di portare avanti questa iniziativa a sostegno della compagna di Filippo. Sono partiti in tre, la madre, il padre e il fratello. Sì esattamente, il nostro amico Claudio li ha accompagnati all'aeroporto, Massimiliano e Filippo sono due fratelli che hanno meno di due anni di differenza e che vivevano qua, nella periferia, immediata periferia di Udine. E ci è dispiaciuto avere di lui un ricordo di un ragazzo dagli occhi sognanti, ma non sempre realizzato, con un filo di malinconia.